Patrizio. Nasco al Rione Alto, uno dei quartieri più anomali di Napoli, la cosiddetta zona ospedaliera. Di quel quartiere ho un ricordo, ci ho abitato quasi 30 anni, il ricordo delle ambulanze, il suono delle ambulanze che mi passavano continuamente, che a un certo punto ci fai l'abitudine. E poi è un quartiere anomalo perché Napoli è costruita sul tufo con la pietra, invece lì è tutto di cemento, c'è tanto cemento e pochissimo verde. Ci andammo a vivere perché papà e mamma erano invece della sanità, quartiere molto più napolesano. Quando ce l'hai fatta ti compri la casa al vomero, siccome le case al vomero non si trovavano papà la prese un po' più su del vomero, infatti si chiama vomero alto, diciamo che tecnicamente noi la chiamiamo il pezzotto del vomero, il rione alto. Quando sono nato io, papà aveva una fabbrica di crocifissi, infatti io a casa mia da bambino ho inchiodato tante volte Gesù sulla croce, perché papà costruiva il legno, veniva segato il legno, venivano fatte le croci, tutti i crocifissi che venivano nelle scuole, negli uffici pubblici della campagna, hanno fatto il mio padre e molti di quei Gesù li ho messi in croceio, perché poi si comprava delle grandi buste di plastica e dentro c'erano tutti questi Gesù così con i buchetti sulle mani. E noi da bambini a casa papà diceva datemi una mano, ci mettiamo con i chiodini e perché poi andavano venduti. Poi negli anni 70 papà invece aveva anche lui la smania, la voglia di cantare perché gli piaceva cantare canzoni, si è venduto alla fabbrica e da piccolo industriale che era ha cominciato a diventare un musicista, un cantante e siamo cresciuti con gli alti e bassi che questo mestiere comporta. Mio padre da cantante era un cultore della canzone classica napoletana, noi a casa avevamo una biblioteca enorme, piena di libri, una parete intera, però tutti su un unico argomento, la canzone classica napoletana. Quindi a papà piacevano Reginella, Sordato e Nammurato, tutti i classici della canzone napoletana. A me no, perché ascoltali oggi, ascoltali domani, glieli sentivo cantare a lui tutti i giorni, a tutte le ore. A un certo punto cominciò ad avere un senso di repulsione, anche per questo motivo io mi sono dedicato ad un'altra parte, sempre della canzone napoletana, chiaramente però era quella lì umoristica. E con papà ho avuto degli scontri perché papà mi voleva far diventare il novello, il nuovo Roberto Burro, mi aveva impostato come cantante di canzoni classiche, a volte era anche crudele, mi diceva canta Reginella, fammi sentire, fammi sentire, io mettevo là, da sei fatta una vecchia scuffata, io a volte cambiavo le parole, da sei fatta una vecchia scuffata, perché avevo proprio voglia di trasgredire. E allora a un certo punto ho iniziato a scrivere le mie canzoni, le facevo ascoltare a mio padre, che lui era un professionista, papà che ne pensi di questa canzone? La guardavo, si abbassava gli occhiali e faceva, ecco resta la schifizia. E quindi me le bocciava puntualmente, a un certo punto ho detto, papà senti, se non me le vuoi cantare tu, se non le vuole cantare un altro, io me le canto io queste altre. E mio padre mi disse, se devi fare il cantante, se vuoi cantarti canzone, cagni tu nom, perché il nome di famiglia non voglio che venga usato per le tue canzonacce. E quindi fui costretto a mettermi un nome d'arte. Papà non aveva mai approvato quello che io facevo come autore, perché diceva sempre, a Napoli ha avuto Salvatore Di Giacomo, abbiamo avuto Libero Bovio, i grandi autori, ora arriva mio figlio e volesse scrivere il canzone. Con papà c'è stato poi un riavvicinamento, papà mi contestava, pensa che papà veniva nei locali dove io cantavo la sera, cioè lui da solo, autonomamente, si prenotava un tavolino, si sedeva e io cantavo. E papà si metteva in prima, si le faceva. E quindi era difficilissimo cantare con mio padre seduto lì. Poi invece mio padre si convince, a un certo punto vede che io avevo forse più successo anche di lui, insomma, avevo centinaia di persone, cantai al teatro Tentano, appena nuovo novellino, feci uno spettacolo al teatro Tentano, feci sold out. E papà a un certo punto accusò, disse, vuoi vedere che forse questo c'ha qualcosa, non capisco cos'è, ma forse qualcosa ce l'ha. Iniziamo pure a collaborare, lui mi fece la regia, venne a fare, io mi rivolsi a lui perché disse, vabbè tu sei dell'ambiente su timido, sul ragazzo, non sto iniziando a cantare, mi dici come si sta su un palco, mi fai capire un po' di cose. E lui mi ha dato tanti consigli preziosi, però dopo aver visto il mio successo, ricordo un episodio incredibile, papà apri un localino che esiste ancora, sta a via Mezzocannone, si chiama La Chitarra, in una traversa di via Mezzocannone, e in questo localino che era di papà, io la sera finito di cantare, andavo a mangiare una cosa, andavo a trovare papà, e c'erano i suoi clienti che stavano lì perché lui aveva questo locale in cui si stava esibendo, si arriva alla porta e entravo io, alle due di notte, e lui faceva signori, questo qua che sta andando è chi lo fa, tende mio figlio, pensate che lui senza sapere suonare la chitarra e senza cantare ha guadagnato chi so di me, e questo è stato il rapporto che ho avuto con papà fino al 96, poi è scomparso, però ci siamo lasciati in ottimi rapporti dopo anni e anni di contestazioni. Mamma invece era una casalinga, tra l'altro era bellissima, era una donna di una bellezza stratosferica, ancora oggi quando vediamo quelle sue foto in bianco e nero diciamo che era bella mamma, ma pure papà era un bel uomo, e mamma è stata quella che mi ha dato la forza di fare questo lavoro, perché io lavoravo da giovane napoletano negli anni 80, non c'era lavoro, questo è un tema proprio pesante della nostra città, questo qui della mancanza di lavoro, ero riuscito a trovare il famoso impiego, il famoso posto fisso, ho lavorato per circa 3 o 4 anni alla libreria Guida in via Portalba, io ero l'uomo di fiducia del dottore Guida, era quello che andava a portare i soldi in banca, quello che aveva i rapporti con la pubblica amministrazione, me la passavo bene, però avevo il vizietto, il vizietto che poi è lo stesso vizietto che aveva mio padre, il vizietto di andare a cantare la sera nei locali, quello di fare il cantante, una sera un parente del dottore Guida si accorse che alle 3 di notte stavo a cantare nei locali e io alle 8 stavo in libreria e mi fui convocato e mi dissero senti tu non puoi fare questa vita, siccome sei l'uomo di fiducia, sei quello che porta i soldi alle banche e compagnia bella, non puoi dormire 3 ore a notte, allora vuoi fare, vuoi lavorare con noi o vuoi andare a fare il cantante, ti diamo due mesi di tempo per pensarsi, in questi due mesi non ho dormito la notte perché io in realtà volevo fare il cantante, mi piaceva fare questo lavoro, però sai lasciare lo stipendio fisso è un po' pesante, allora chiesi consiglio a mamma, dissi mamma le cose stanno così e mamma mi disse una cosa che mai mi sarei aspettato da una madre napoletana della sanità, naturalmente uno sarebbe detto pensa alla sicurezza economica, invece mamma mi disse no segui il tuo cuore, e il mio cuore mi diceva di fare il cantante, ho rischiato di brutto, mi sono licenziato, sono rimasto senza stipendio, però poi dopo poco tempo le cose cominciarono a girare bene come artista, ho iniziato a scrivere prestissimo canzoni, io a 13 anni ero famoso, ma dove ero famoso, alle scuole medie, perché avevo scritto la canzone sulla preside e sai quando scrivi una canzone umoristica in cui sfotti la preside, la cantava tutta la scuola quella canzone, poi a 16 anni ho iniziato a scrivere altre canzoni, mio padre ascoltava musica brasiliana, lui piaceva Joao Gilberto e la canzone Upato, sai Upato, para 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 para, e me la metteva dalla mattina alla sera, aveva il disco con il vinile, no metteva la puntina Upato, para 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 para, e me la metteva in altra cosa, certo punto non ce l'ho fatta più, stavo nella stanza al fianco, ho fatto Upato, Ustrunzu, e ho scritto una canzone che si chiama Ustrunzu in simil brasiliano, e poi anziché farla cantare a Joao Gilberto, la fece cantare a Joao Antonio Paolo Samento, un cantante di un sentimento che è un mio alte rego brasiliano, infatti mi piace scrivere canzoni in finto brasiliano, in finto portoghese, e poi ho scritto tantissime altre hit, anche alle superiori, ma io forse era nel mio destino quello di fare il cantante, cioè di fare il cantatore, pensa che pochi giorni fa sono andato a trovare mia zia che ha 92 anni, ha detto vieni ti devo far vedere una cosa, mi fa vedere una buona, no come si chiamavano, le super 8, quelle delle camerine che si usavano negli anni 70, negli anni 60, si è visto in questo filmino in bianco e nero, perché poi erano pure senza audio questi filmini, si vede a me, a 7 anni, su una sedia all'impiede, seduto con una chitarina in mano, e poi l'inquadratura passa, c'erano una ventina di bambini che portavano il tempo con le mani, quindi io a 5 anni, 6 anni già suonavo la chitarra, la suonavo in pubblico e avevo pure successo perché i bambini portavano le mani, avevo dimenticato questo, l'episodio che a 7 anni già facevo cantante, ma la mia missione non è una missione di placare il mio ego, cioè per dire non siete stati a casa mia, non ci sta manco una coppa e neanche una medaglia, eppure guarda me ne hanno date tante, ma le chiudono per pudore, le tengo in cantinola, a volte le butto addirittura, non ho nulla di che vantarmi, non c'è manco una fotografia mia appesa nella mia stanza, a volte vai a casa dell'artista, c'è tutta la parete, gli articoli di giornale, tutto quello che ha fatto, io qua, io là, io su, io giù, per me siamo di passaggio su questa terra, fai quello che devi fare, poi dopo passi a cose più interessanti, non c'è niente di cui vantarsi, io la mattina vado, ho detto un'altra volta io, vado a fare il cantante, però se è pure quello che va a fare il pane, teniamolo in considerazione che c'è un uomo che si alza tutte le notti alle tre del mattino e va a preparare il pane per tutto il quartiere, anche lui dovrebbe fare gli autografi, anche lui è una persona molto, probabilmente anche più importante di noi che facciamo i cosiddetti artisti. Io feci il mio primo disco nel 1989, era Natale, sotto Natale insomma, andrei a registrare in questa saletta di Santa Lucia a Napoli, c'era una casa discografica, una sala d'incisione si chiamava Rico Records e il tecnico si chiamava Lello, poi non lo so perché la vita, io ho fatto otto album in varie sale d'incisione, il tecnico si chiamava sempre Lello, c'avevo un Lello in ogni sala d'incisione, infatti si sentono i miei rischi, io mi stanno faccio Lello, come si sente la cuffia? Registrai questo mio primo album, siccome era autoprodotto, pagavo io e la sala d'incisione costava 300.000 lire dell'epoca all'ora, quindi se tu sbagliavi a cantare una nota, dovevi ricantare la canzone, c'era un tassametro praticamente nelle sale d'incisione, un disco poteva venirti a costare anche un sacco di soldi, e io arrivai lì invece preparatissimo, dissi siccome qua si paga ora 300.000 lire, sono una cifra blu, mi cantai tutte e dieci canzoni una dietro l'altra, infatti il tecnico disse vogliamo registrare prima le chitarre e poi le voci, dissi no Lello, fa una cosa, premi il record e fermati quando ti dico io, io cantavo, la prima canzone che cantai era, aveva fatto amore per due anni e poi mi fermo da solo, senza fermare il nastro, conto mentalmente due secondi, uno, due, e poi attacco la seconda canzone, poi conto uno, due, sai, gli spazi fra una traccia e l'altra, alla fine ho cantato l'ultima canzone che cantai, si chiamava il rock dei tamarri, e la cantai dopo che già ne avevo cantate nove, quindi stimo senza voce, infatti in quella canzone non canto, nella vecchia incisione io non canto, raglio, si sente a me, cupo favoretti senza, perché già stavo venendo, senza bere un bicchiere d'acqua, niente, avevo cantato, e nella incisione originale c'era pure, io finisco di cantare la chiappa, fermo, ultima nota di chitarra, si sente la mia voce che fa, l'ello, quant'è? Che poi l'ello la tagliò questa cosa, e l'ello mi disse, senti, sarebbero 300.000 lire per un'ora, ma tu ci hai messo 40, dammi 2,40, con 240.000 lire cambiai la mia vita da così a così, attraverso le mie lenti si vede solo il bicchiere mezzo pieno, grazie a Dio, insomma, perché questo mi rende gaio, giulivo e gioioso, io vedo solo bicchieri mezzi pieni, anche in una tragedia riesco a vedere cose belle, per dire, la mia natura, sono stato scacciato, messo fuori, messo alla porta durante i funerari, perché proprio mi scappa da ridere, io pure quella cosa brutta, la cosa più brutta che esiste alla volta, ma io la vedo come un passaggio verso qualcosa di divertente, insomma, mi viene da ridere e mi cacciano, mi buttano fuori, perché proprio nella mia natura non esiste il pianto, non esiste la tragedia, che ha già fatto, sono nato a fare il comico.